Ciao, sono il dottor Max, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo. In questa nuova serie di video, dedicata agli integratori alimentari, ti leggerai i foglietti illustrativi degli stessi. Ti ricordo di iscriverti al canale, mettere un mi piace ai video che ti interessano, e commentare con le tue esperienze personali, in base agli integratori date e assunti, grazie ai suggerimenti condivisi. In questo video esaminiamo l'integratore alimentare Pentabiocell. A cosa serve? Pentabiocell ha un integratore appartenente alla categoria degli integratori di probiotici. È commercializzato in Italia dall'azienda NOSSRL. Informazioni commerciali. Titolare. NOSSRL. Concessionario. NOSSRL. Categoria di appartenenza. Integratori di probiotici. Forma farmaceutica. Stick. Confezioni. Pentabiocell 14 stick da 1,2 G. Indicazioni. Integratore alimentare a base di probiotici utili per favorire l'equilibrio della flora batterica intestinale. Modalità d'uso. Si consiglia l'assunzione di uno stick al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. Aprire lo stick ed ingerirne il contenuto, versandolo direttamente in bocca. Descrizione e caratteristiche. Pentabiocell la marchio registrato ha costituito da una miscela di 5 ceppi di probiotici e precisamente da L. Paracasei 101, 37, LMGP, 17504, L. Plantarum 14, Dicect 4528, B. Breve BBR8, LMGP, 17501, B. Breve BL10, LMGP, 17500, B. Animalis SSP. Lactis B1, LMGP, 17502. Il prodotto può essere utilizzato anche da soggetti intolleranti al glutine e al lattosio. Avvertenze. Gli integratori non vanno intesi quali sostituti di una dieta variata, equilibrata di un sano stile di vita. Non eccedere la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 3 anni. Per l'uso di pentabioce la marchio registrato nei bambini di età inferiore ai 3 anni, sentire il parere del medico. La data di fine validità si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Conservare in luogo fresco e asciutto, al di sotto dei 25 gradi al fine di garantire la vitalità dei probiotici. Non congelare. Ingredienti. Agente di carica. Sorbitolo. Miscela di probiotici. L. Paracasei 101, 37, LMGP, 17504. L. Plantarum 14, Dicect 4528, B. Breve BBR8, LMGP, 17501. B. Breve BL10, LMGP, 17500. B. Animalis SSP. Lactis B1, LMGP, 17502. Agente anti-agglomerante. Biossido di silicio. Aroma, edulcorante. Sucralosio. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero di esserti stato utile, iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video. Buon proseguimento ci vediamo al prossimo integratore alimentare esaminato.